Per il Milan ci saranno due partite fondamentali, diciamo le più importanti della stagione perché giovedì si giocherà il passaggio del turno in Europa League contro la Roma partendo da un punteggio di svantaggio per 1-0 giocando all'Olimpico. Sarà Roma-Milan e poi lunedì 22 aprile potrebbe essere una data importantissima sia per i tifosi dell'Inter che potranno vincere lo scudetto battendo appunto il Milan e per i milanisti perché vedersi sbattere in faccia il tricolore festeggiando in casa diretti rivali con cittadini dell'Inter non è mai una cosa semplice. Io mi ricordo quando la Lazio vinse la Coppa Italia contro la Roma appunto allo stadio olimpico ci rimasi male 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 e quindi sto leggendo tutti i vari opinionisti, giornalisti, anche tifosi e volevo condividere con voi le parole di Carlo Pelegatti, giornalista e tifoso del Milan. Però intanto ragazzi volevo invitarvi a lasciare un like qua sotto, un mi piace non costa nulla, come non costa nulla iscrivervi al canale, figgiate il tasto iscriviti, se volete ho anche il secondo canale, vi lascio il link qua sotto, Caffarelli solo calcio, seguitemi anche là, tanto non costa nulla neanche nel secondo canale. Quindi andiamo alle parole, alle frasi di Carlo Pelegatti che ovviamente ha parlato del suo Milan, è un tifoso storico della squadra rossonera e ha detto queste frasi. Io voglio anche il vostro commento qua sotto, io li leggo sempre tutti, mi diverto a leggerli e ovviamente sono chiacchiere da bar ragazzi, però ho questo canale YouTube e mi diletto a condividere con voi queste frasi perché ci sta, no? Arriva il derby, non dico del secolo, ma poco ci manca e quindi sentire le opinioni di tifosi, giornalisti in questo caso a me fa veramente curiosità, no? Mi lascia molto stupito nel leggerle perché adesso vi renderete conto. Allora, ha detto queste testuali parole, mi emozionavano di più come emozione, mi emozionavano di più come emozione il trofeo Berlusconi quando si giocavano quei meravigliosi Inter Milan. Quindi a lui emozionavano di più i trofei Luigi Berlusconi e non sicuramente emozionerà questo perché, dico io, ovviamente il suo Milan giocherà contro un Inter che potrebbe trionfare, no? E che trionfo! Poi, ha andato avanti e ha detto, in questo momento per me il derby non interessa perché devo andare a Roma, cercare di rimanere in Europa e una semifinale di Europa League. Devo partire da 1-0, quindi devo compiere l'impresa e questo Milan, per entrare nella leggenda, deve fare cose leggendarie. Vabbè, io penso che il Milan leggendario sia stato un altro, però questo lo dice Enrico Caffarelli. Quindi, battere la Roma non è battere il Real Madrid. Ma come ti permetti, Apele Gatti? Ma come ti permetti? Perché la Roma non è come il Real Madrid. No, scherzo, hai ragione. Però la Roma di De Rossi ultimamente non è facile batterla e lo ha dimostrato anche a San Siro espognandolo. Quindi devi compiere l'impresa e battere, ha detto, non è come il Real Madrid, ma è una squadra rivale in Italia e partiamo dall'1-0. Poi, e poi faccio countdown fino a giovedì. Lui fa countdown fino a giovedì. E dopo giovedì voglio ricordare una cosa a chi parla del derby. Una volta si è giocato un Inter-Milan dove, se l'Inter avesse vinto, avrebbe vinto il campionato. Un po' come sarebbe lunedì, no? Gol di Kakà, Inzaghi e Cruz. Vittoria del Milan per 2-1. Quindi la stoccata l'ha dovuta dare Pelegatti. Il buon Pelegatti che diceva all'inizio che a lui non gli interessava nulla di questo derby che verrà. Secondo lui sono migliori quelli del trofeo Luigi Berlusconi. Invece all'ultimo ha dato la battuta, la frecciatina, dicendo che una volta l'Inter doveva vincere lo Scudetto e invece in quella gara vinse il suo Milan per 2-1. Quindi ragazzi vedete che anche questi giornalisti e tifosi vogliono nascondere la loro tensione, le loro palpitazioni perché, dobbiamo essere sinceri, ma quando vedi triunfare la squadra rivale cittadina, uno Scudetto di fronte a te, è logico che varia la sportività, la mano bisogna sempre dargliela per carità. Però come ci puoi stare se veramente hai nel cuore il Milan in questo caso e io come avevo e ho ancora tuttora la Roma nel mio cuore vedendo la Lazio triunfare, sbattermi la famosa coppa in faccia, ci rimasi male ma per giorni, sono sincero, per giorni e anche mesi anche mesi, c'è qualcuno che dice non te passa mai Eri, non te passa mai e per certi versi ha anche ragione. Quindi per legatti non fare l'eroe, non vedrai mai questo video, anzi invito a lasciare un like così almeno lo facciamo girare, non fare l'eroe, non dire che è meglio il trofeo Luigi Berlusconi anziché il derby di lunedì perché se vedrai veramente perdere il tuo Milan ti roterà e non so quanto ma ti posso capire ovviamente però devi essere un pochettino più sincero, tutto qua. Ragazzi e ragazze invito a voi a commentare questo video qua sotto come vi ho detto all'inizio lasciate un bel like, ve lo ripeto ancora, iscrivetevi al canale, seguitemi anche sul secondo canale Caffarelli solo calcio e vedremo come andrà a finire questo derby importantissimo per gli interisti e per i milanisti. Io vedrò la Roma e avrò le palpitazioni e non lo nego a dirlo quando giovedì ci sarà dopo domani ci sarà la partita di ritorno allo stadio olimpico, starò proprio con la tremarella così starò e non mi vergogno a dirlo, non ho nessun problema a manifestare le mie emozioni perché il calcio è soprattutto emozione ragazzi lasciatemelo dire ed è il più bel sport per me per Enrico Caffarelli soprattutto per questo. Ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao da Enrico Caffarelli